ERI FUSI ASMR Ciao a tutti amici FUSI Come state? Spero tutto bene Oggi andremo a fare Super ASMR Food Andremo a mangiare Le gelatine Di frutta Siete pronti? Via Vabbè Le sistemiamo bene bene Così Ok Sono buonissime Ragazzi Sono super super buone E hanno tutti i gusti Sono un po' gustose Eccole qua Super super Chiotte Questi qua Sono veramente buone E hanno tutte le borne Quindi ragazzi Adesso Andiamo A divertirci Un pochino Gelatine 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 Bene ragazzi Ora andiamo ad associare Queste prelibatezze Anima Hooper Riccardo Basta Calma pentolo Bsplett ! Sì, sì. Sì, sì, sì. Buonissima. No, ragazzi, scrivete in un commento quale secondo voi è il mio gusto preferito. No, ragazzi, scrivete in un commento. 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 No, ragazzi, scrivete in un commento.